È un punto importante che muove la classifica, è un punto che dobbiamo cercare di tramutare in una prestazione importantissima mercoledì. Non conta niente se oggi torni dal Buonolis con un buon risultato, se mercoledì, che per noi diventa la partita della stagione, importantissima, non riusciamo a fare... Noi avevamo fatto anche a Porta di Ono la stessa partita di oggi e poi in casa con Ravenna abbiamo fatto Karakiri. Oggi qua abbiamo fatto una partita intensa, a Gagliarda, abbiamo ribattuto botta su botta, una squadra che voleva vincere assolutamente. Quindi dobbiamo ora pensare esclusivamente a mercoledì, che per noi è una partita fondamentale, diventa la partita della salvezza. Perché mi creda la salvezza è un obiettivo da raggiungere ed è complicatissima quest'anno, in un campionato tremendo, difficile. No, noi stiamo giocando ultimamente in maniera un pochino diversa, stiamo giocando 3-4-1-2, con Giorgione sotto le due punte. Oggi avevamo difficoltà, non c'avevamo Coco e Ravasi, abbiamo messo Montella e Gelli più aperti. Stiamo portando avanti questa idea, è l'idea che stiamo portando avanti, che porteremo di qui alla fine del campionato. E oggi su Ventola ho preferito mettere Gonzi, perché Gonzi è un giocatore importante e ho invertito la fascia. Ho invertito la fascia e devo dire la verità, Gonzi ha fatto una grande partita, perché Ventola è un giocatore che ha la gamba per la categoria superiore. E quindi è stato importante. Ma sono contento dell'atteggiamento della squadra, del sistema, di come in campo si è mossa e lo dobbiamo avere anche mercoledì. Vediamo Giorgione cosa si è fatto, ma l'idea è quella di continuare su questo percorso, con questa situazione e andare avanti così.